Se il pregiudizio nasce dal cattivo impiego della conoscenza, la destrezza del malanimo fa il resto. Due arterie basilari, la prima indotta, la seconda naturale. A rischio di sembrare conservatrice di slanci obsoleti, mi siedo, dissento e scrivo dell'amore privato di sé, sottratto da un irrefrenabile cinismo sociale alla sua primaria insostituibile sostanza. Che potere ha la parola in tutto ciò? Dovrebbe averne, se la parola avesse una fruibilità collettiva non solo roboante, se si pensasse al corpo della parola, quella che solca la fronte da una tempia all'altra dove il respiro cessa, là si lascerebbe andare in virtù della comunicazione. pensiero e parola gratuiti. Qual è il senso grammaticale della E? La punteggiatura docet, persino al docente contestato. Dicasi congiunzione tutto ciò a cui consegue un atto. abbiamo aperto la congiunzione nell'immensa agora dell'individualismo, slacciati e in pieno disamore per il prossimo. Scorretti e fieri d'un copione corale, da solisti del fare, a fare e farsi male. Ogni lui sei tu. Gioca con queste quattro parole, come pedine ubriache. Il senso non cambia. In vino veritas.